Ciao Jumpers e bentornati sul canale, siamo qua con Serena oggi Ciao ragazzi Ti vengo a dire che è la prima ospite del canale Che onore, grazie mille, sono stra contenta di essere qua Oggi sono qua con la palla da basket freestyle Perché ti insegnerò dei tricks Anche la prima volta che approccio una cosa del genere Ho giocato a basket alle medie, come tutti E pazza Quindi sono molto curiosa Vediamo come te la cari Allora, primo trick Rido già perché Vabbè, al mattino vi faccio ridere oggi Non abbiamo provato niente prima Allora, il trick è questo Coordinazione di braccia La mano che sta sotto va sopra E passa sempre sopra l'altra Poi è utile che tu ti dai un colpettino che la porti verso l'alto Questo aiuta Ok Vai Croccia Oddio Beh, allora, guardate le sue mani Quante sono Aiuta Assolutamente Mi sono svantaggiata anche qua No, certo Magari si tirò un po' più Eccolo lì, bravissimo Adesso questa La te possa arrivare Sopra Sopra Ho perso un braccio Ok, è che ci siamo Ragazzi, cioè Prima volta che lo fa Eh dai, è bene già Davvero? Sì, assolutamente Ti ho stupito? Sì, sei troppo veloce Quindi dobbiamo fare qualcosa di un po' più difficile mi sa Perché questo ormai Cioè secondo me mi metto un giorno riesco a farlo tutto Allora ho visto prima che hai fatto uno spin Sì È molto bene L'unica cosa È che ovviamente È la mano piccola della mia Quindi Ti cazzo nel paligone Devi cercare di dare più forza col corso È un momento di essere Bello Tra l'altro Il dito Tenirò verso di te Ok Cosa importantissima Dei girarci sulla tua Ok Ok Mi sono spaventata Eh no, ma sai perché? Non prenderla così Mi spacco il dito Perché è il dito all'altro Tienilo piegato Cioè Verso di te così Tienilo Ok Ok Vediamo se riesco a metterla su io Sì Vedi che comunque Figgata Aspetta Dopo un attimo Ti metto anche il mio per questo La palla che gira È una figata unica Adesso in primo Allora Primo step Questo Qua Secondo step Braccio lo messo per così La fai saltare E passi di qua E ti fermi Adesso però tornare indietro Ok Sinistro Tenere la più Verso di te La palla Sì Così quasi E poi c'è un'altra persona Tutta la stessa Così o così Ok Però questo mi ha facendo un buon fake Bisogna passare sotto Non si vede niente Eccolo No Come si fa Sento le braccia Questo che fa così Il basket freestyle Attenzione aiuta anche per le braccia Le braccia anche Ragazzi Se volete allenarle a corpo libero Prendete una Da basket Passiamo alle cose Sempre più difficili Mi sembra che te la stai cavando Piuttosto bene Grazie Allora Siamo arrivati a rollare Quindi Si fa scorrere la palla Su le braccia Niente Si fa così La fai scorrere La sinistra La fai scorrere verso il basso Così vedi che torna una sola Ti aiuti con le dita E quindi Una volta che arrivo qua Faccio la stessa cosa E un'altra cosa Al minimo mi arriverei qui Sto aspettando Ok Vai Questa è sempre stata Questa è sempre stata Una di quelle cose Insieme a Qua che si chiama Per la che giro Lo spin Questa è sempre Una di quelle cose Che ho visto E ho detto Mamma mia Che figata Chissà se Se qualcuno lo segneranno È arrivato Mr. Jump In mio soccorso Sai cosa Ma lo proviamo a fare Un pochino più fluido Ok Bello Poi è girato perfetto Come in un circun... Cioè proprio Bello Bravissimo Vabbè Uh poi Magari la prossima volta Che ci vedremo Perché ci vedremo Assolutamente Facciamo la O Quindi Il frattempo allena Sì Assolutamente Mi procurerò Un pallone Mi diverto così Prova ad andare indietro Ah Ci porto stiga Ha detto che Che si allena E che si compra addirittura A pallone da basket Quindi Prova ad andare indietro Una nuova passione Grazie Grazie a te Quindi ragazzi Anche per oggi è tutto Serena Speriamo di vederci presto Nel prossimo video Assolutamente Dillo tu Che magari Che sia Ragazzi Mi raccomando Il video è finito Tasto like Iscrivetevi al canale Attivate il Promemoria E lasciate un commento E noi ci vediamo Al prossimo Video Ciao 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 Ciao